Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio spiegarvi come evitare di compilare quel fastidioso modulo per tanti chiamato DAX7. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Ormai ho già fatto svariati video sull'argomento direttiva DAX7 e come funziona su tante piattaforme e dopo aver fatto quei video sia sotto proprio i video in sé nei commenti oppure tanti che mi hanno scritto anche in privato mi hanno dato le idee più assurde e fantasiose per evitare di compilare il modulo ma nessuna diciamo nel concreto avrebbe potuto funzionare quindi mi sono messo a studiare un modo o dei modi per effettivamente evitare di compilare questa direttiva DAX7 su determinate piattaforme oppure a livello generico. La cosa che mi chiedete in tanti è se funziona dividere le vendite su più piattaforme. Essendo la domanda oppure l'affermazione più gettonata voglio subito dare una risposta chiara perché sì le piattaforme non comunicano tra di loro quindi io potrei stare sotto le 30 vendite o i 2000 euro incassati su ebay, su Vinted, su Subito e mettiamoci anche Wallapop. Però cosa comporta tutto ciò? Semplicemente il fatto che su varie piattaforme vendo diversi oggetti quindi innanzitutto le piattaforme potrebbero non essere adatte per la vendita di un determinato oggetto. Magari alla fine dell'anno mi ritrovo con tanti oggetti che non sono riuscito a vendere perché su Vinted si vendono molto bene ma non posso più venderli perché ho superato il limite e su ebay non vanno e questo è il primo grosso limite. Se invece vogliamo parlare stringente proprio per il modulo beh in questo caso non comunicando le varie piattaforme nessuno saprà mai che avete venduto per 1999 euro su ogni piattaforma però il problema sta nei controlli perché ci potranno sempre comunque essere. Sono pagamenti tracciati tutti i soldi vi arriveranno sul vostro IBAN quindi sul vostro conto bancario in questo caso l'agenzia delle entrate se volesse fare un controllo sul vostro conto corrente random vedrebbe che magari avete incassato 10.000 euro da svariate piattaforme e in quel caso chiederebbe comunque il pagamento delle imposte. Proseguendo però con le singole piattaforme concentriamoci su Vinted come non compilare il modulo DAX7 su questa piattaforma? Qua mi sono arrivate le idee più strane e fantasiosi possibili ed immaginabili perché ovviamente è la piattaforma che tira di più però non le ho trovate molto efficaci nel concreto perché mi è stato detto innanzitutto che sarebbe bastato semplicemente vendere quanto si voleva 5-10.000 euro alle 100.000 pure non ci sono problemi tanto basta lasciare tutti i soldi guadagnati sulla piattaforma senza ritirarli così sul conto non arrivano e poi spendere nuovamente i soldi quindi beh se io guadagno 10.000 euro e poi rispendo 10.000 euro sulla piattaforma molto utile ma a parte questo non funziona perché la piattaforma calcola ogni transazione fatta non interessa che i soldi vengono spostati poi sul conto corrente o meno ogni volta che si fa una vendita questa viene conteggiata per la compilazione del modulo DAX7 quindi idea bocciata non funziona. Seconda cosa molto fantasiosa e alquanto bizzarra mi è stato detto che sarebbe bastato non vendere l'oggetto al prezzo vero e proprio nel senso io vendo un qualsiasi oggetto a un euro più x di spedizione che saranno arriva all'utente finale l'utente finale viene prima convinto in qualche modo strano da me a fare un pagamento sulla poste pay bonifico chissà come comunque tutti i metodi tracciati e per poi fare un rimborso così neanche viene conteggiata la vendita da un euro di modo tale che così io ho venduto l'oggetto mi sono arrivati i soldi tramite altri modi e tutto è andato a buon fine che idea geniale come ho fatto a non pensarci prima no è una cagata fondamentalmente perché l'utente non si convincerà mai a fare un pagamento fuori piattaforma né prima né dopo aver ricevuto l'oggetto e se lo si fa dopo che lui ha ricevuto l'oggetto si è intascato l'oggetto da 200 euro a un euro grazie a rivederci nessuno paga nulla quindi caliamo un velo pietoso qua l'unico modo fattibile è fare uno scambio a mano cosa che la piattaforma permette di fare se si abita vicino ma ovviamente è molto molto limitante se no altra soluzione può essere intestare l'account a più persone ma ne ho già parlato in un altro mio video di quali sono i limiti andatelo a recuperare perché è un video fatto bene su cui spiego che cosa serve per avere un multi account e le cose sono veramente tante passiamo però a subito quale situazione potrebbe migliorare come non compilare il modulo della DAX 7 su questa piattaforma sicuramente non utilizzando tutti i sistemi di subito che però tutelano molto l'acquirente infatti c'è il servizio tutto subito che sia con la spedizione gestita dalla piattaforma oppure no verrà comunque conteggiata la vendita ai fini della DAX 7 infatti subito si mette in mezzo tra acquirente e venditore e gestirà il flusso di denaro questo farà ovviamente conteggio nelle vendite e alla fine dell'anno se saranno più di 30 o più di 2000 euro incassati anzi subito faceva riferimento a 2500 ma anche lì si vedrà magari a non so gennaio febbraio del 2024 darà comunque al venditore il modulo della DAX 7 da compilare questo ovviamente si potrebbe aggirare in due modi uno facilissimo lo scambio a mano che su subito è ancora molto usuale io vendo tanto con lo scambio a mano oppure pagamenti fuori piattaforma non tutti utilizzano il metodo tutto subito in effetti alcune volte ho notato degli acquirenti un po resti perché da quando c'è questa nuova modalità si sentono più tutelati però alcuni ancora fuori piattaforma pagano come col bonifico poste pay paypal ovviamente tutti i metodi tracciati anche qua solito discorso l'agenzia delle entrate se vuole controllare controlla e vi arriva comunque una multa se avete non so incassato per 10.000 euro su subito tutti i pagamenti fuori della piattaforma però il concetto è che non si andrà a compilare il modulo con pagamenti esterni alla piattaforma oppure con segni a mano purtroppo su ebay la situazione non è tanto diversa rispetto a vinted ma si può non compilare il modulo della DAX 7 su questa piattaforma assolutamente sì ci sono degli escamotage che si possono utilizzare anche se purtroppo sarà molto molto complesso innanzitutto come vi ho già fatto presente nei vari video che ho fatto sulla vendita su ebay c'è la possibilità di selezionare la spedizione o il ritiro in zona e anche di mettere solo il ritiro in zona ma è molto limitante per la piattaforma perché purtroppo su ebay le persone sono abituate a comprare in tutta europa in tutto il mondo quindi dire consegno solo l'oggetto a torino milano roma o addirittura città più piccole sarà molto limitante per gli affari però si potrebbe sempre dire all'utente ti faccio uno sconto se mi fai un pagamento diretto anche con paypal con bonifico con poste pay a me negli anni passati è successo parecchie volte di riuscire a convincere l'utente finale ti faccio uno sconto mi paghi fuori piattaforma soprattutto se l'account ovviamente è bello buono e saldo perché se no l'utente con un account nuovo non si fida questi purtroppo sono gli unici escamotage per non compilare il modulo DAX7 su ebay facebook è un'altra piattaforma sulla quale si può vendere veramente di tutto con il suo marketplace e anche qui il modulo della DAX7 per ora non c'è tutto ciò perché se non ho interpretato male la direttiva per poter essere compilata serve che la piattaforma in questione regoli il flusso di denaro e vendite tra acquirente e venditore e facebook obiettivamente non lo fa quindi tutte le vendite fatte sul marketplace di facebook non saranno soggette a compilazione modulo DAX7 ovviamente metto le mani avanti sempre solita storia se si fanno vendite a distanza e ci si fa pagare con poste pay bonifico paypal o qualsiasi altro metodo che non sia il contrassegno anche se di mezzo se poi c'è l'assegno finisce in banca anche lì è tracciato giri strani comunque qua sono metodi tracciati quindi alla lunga se si incassano 10 20 mila euro all'anno ovviamente si verrà a sapere o meglio l'agenzia delle entrate lo verrà a sapere per tutti gli scambiamani invece la situazione è analoga alle altre piattaforme per ora si può vendere con tranquillità senza compilare nessun modulo poi la palla di cristallo non ce l'ho non lo so che cosa succederà magari nel 2024 facebook adotterà dei metodi diversi sul suo marketplace anche se la vedo molto molto difficile per quanto riguarda tutte le altre piattaforme che vi possono venire in mente ovviamente si può citare booking airbnb oppure anche fiver o tante altre piattaforme che trattano la vendita di beni o servizi tra acquirente e venditore il discorso è sempre il medesimo se passate tramite la piattaforma il modulo arriverà se fate fuori piattaforma il modulo non arriverà a me su airbnb è capitato quando ho fatto il viaggio a napoli la ragazza guarda se vuoi te l'affitto a meno perché ho meno spese però fuori piattaforma non ho dovuto pagare nulla in anticipo sono arrivato mi ha dato la camera pagata in contanti tutto a posto ovviamente questo può capitare anche su fiverr ad esempio mi viene in mente se un utente fa un acquisto per non so una traduzione e poi si trova bene con voi guarda ci accordiamo fuori piattaforma ti faccio uno sconto da lì in poi le cose vanno bene tutto fuori piattaforma però il concetto è sempre lo stesso se passate fuori piattaforma ovviamente l'acquirente avrà meno tutele e quindi potrebbe non fidarsi di sicuro il modulo DAX 7 non arriverà i controlli sono una cosa a parte se passate dentro la piattaforma prima o poi che sia adesso durante il 2023 o nel 2024 questo modulo da compilare vi arriverà però come dico sempre io non facciamo allarmismi inutili non dovrete spaventarvi se in un anno avrete fatto 40 vendite o anche 50 o anche 100 e avrete incassato una determinata cifra che supera i 2000 euro perché non vuol dire pagare le tasse vuol semplicemente dire che l'agenzia delle entrate sarà informata che non so ad esempio vendete su Vinted e quindi potrà chiedere a Vinted che cosa avete venduto a che prezzo l'avete venduto e di conseguenza fare un controllo sul conto corrente per capire se arrivano anche soldi ad esempio da altre piattaforme tutto ciò non vuol dire pagare le tasse ovvio che se voi fate 5 10 15 20 mila euro all'anno di vendite potrebbero essere anche oggetti vostri recuperati nel tempo lo zio che va lasciato la casa in eredità e la state svuotando qua le tasse saranno da pagare e certo perché l'agenzia delle entrate vi considera un'azienda e non più obbisti ma in italia c'è sempre la fantomatica cifra dei 5 mila euro all'anno sì ve la do per buona ma non fissatevi che quindi 5 mila e euro o 4.999 euro vuol dire che sono dentro sono fuori è una cifra indicativa come dico sempre serve anche contare la continuità di un'attività non è che se dall'oggi al domani vendo un oggetto per 2.000 euro allora dovrò pagarci le tasse sopra assolutamente no ma se io tutti i mesi vendo per 2.000 euro di oggetti assolutamente sì quindi non allarmatevi e non entrate nel panico se avete fatto 31 vendite e 2.000 euro di incasso spero di essere stato chiaro e di avervi illustrato al meglio come funziona bene la compilazione di questa DAX 7 ma lo sapete già che per qualsiasi altro dubbio domanda curiosità oppure parere vostro sull'argomento lasciatemi un commento grazie a tutti